A questo punto selezioniamo il secondo duplicato, andiamo su effetto, sfocatura e contrasto, sfocatura veloce ed aumentiamo leggermente la sfocatura e vedete che si è creato un bagliore all'esterno del nostro corpo e devo dire che adesso è già molto meglio Bene, a questo punto è venuto il momento di aggiungere il fuoco prima di aggiungerlo direi subito di aggiungere la nostra fiamma quindi importiamola all'ultimo posto ci portiamo al momento in cui io scrocchio il dito e divento di un certo colore e sposto la fiamma fino a tale punto Ecco qua Perfetto, quindi a questo punto importo il fuoco al primo posto porto la modalità su scolora sposto il fuoco nel punto in cui divento di un certo colore e poi vado un po' avanti fino a quando non vedo più la scritta quindi ritaglio dalla sinistra e quindi sposto di nuovo il fuoco dove divento del colore quindi se non andiamo avanti vediamo il fuoco che appare al centro chiaramente lo dobbiamo spostare quindi lo spostiamo qua e voilà questa animazione del fuoco però è stata rallentata del 33% quindi io direi di riportarla alla sua velocità naturale quindi ci clicchiamo con il tasto destro sul livello oppure se siete in Macintosh con CTRL e tasto sinistro tempo dilatazione tempo e lo portiamo a 133% no scusate lo portiamo a 67% perché è stato rallentato del 33% quindi 100 meno 33% fa 67% perfetto clicchiamo su ok in modo da avere la velocità naturale sac chiaramente adesso metteremo più fuochi quindi a questo punto direi di espandere rinominiamo prima il fuoco premendo invio lo chiamiamo fuoco 1 quindi espandiamo il suo menu espandiamo trasformazione e clicchiamo sul cronometro di fianco a posizione controllate che siete quando diventate del colore infuocato quindi ci spostiamo quindi a questo punto dobbiamo aggiungere più fuochi e per duplicare più velocemente possiamo usare il tasto di scelta rapida in Macintosh control no scusate in Macintosh CMD e D mentre in Windows control più D quindi duplichiamo per altre 1, 2, 3, 4 volte quindi selezioniamo il fuoco 2 e lo portiamo al destra selezioniamo il fuoco 3 lo portiamo un po' più in basso sempre a destra selezioniamo il fuoco 4 lo mettiamo al centro e lo ingrandiamo poi lo spostiamo di nuovo poi direi di duplicarlo un'altra volta e lo spostiamo qua alla sinistra quindi se io vado avanti sac bello eh poi vedete anzi no prima di duplicarli di nuovo perché io avevo intenzione poi di duplicarli di nuovo i fuochi perché vedete che ad un certo punto non si vedono più poi dopo riappaiono insomma io avevo intenzione di duplicarli di nuovo comunque prima di farlo direi di spostarli nel punto ehm quando si muove il personaggio quindi li selezioniamo tutti tenendo premuto il tasto shift quindi da fuoco 5 a fuoco 1 andiamo avanti quando il nostro personaggio si inizia a spostare anzi no prima un po' prima che si inizia a spostare e impostiamo un fotogramma per posizione cliccando sul rombo di fianco in questo modo abbiamo impostato ehm il rombo per tutti i fuochi perché li abbiamo selezionati tutti infatti se noi li espandiamo vediamo che ha aggiunto un fotogramma quindi ci portiamo in avanti quando si sposta e li spostiamo tutti nella nuova posizione in modo chiaramente da eh eh allinearli con il corpo se ad esempio ce n'è uno fuori posto allora selezionate quel fuoco prima cliccate in un posto qualunque selezionate quel fuoco e lo spostate poi io vedrò alla fine i difetti ci si sposta di nuovo il nostro personaggio spostiamo di nuovo i fuochi così ecco vedete questo qua ad esempio è spostato male quindi per selezionarlo guardo qual è il fuoco questo credo che sia ecco qua e lo sposto in qua quindi li reseleziono tutti vado avanti qua e li sposto di nuovo perfetto poi a questo punto quando non c'è più il personaggio nella composizione mi sposto in un punto in cui si vedono e sposto i fuochi fuori dalla composizione quindi vado avanti quando il mio personaggio torna vabbè per spegnere la fotocamera questo lo potremmo anche togliere però vabbè io li sposto di nuovo ecco qua perfetto quindi abbiamo spostato i fuochi se noi guardiamo adesso direi di renderlo ancora più infuocato quindi dopo aver selezionato sempre tutti e cinque i fuochi andiamo su modifica duplica li spostiamo all'inizio quindi abbiamo dal fuoco 6 al fuoco 10 e a questo punto spostiamo nella timeline i loro valori ci spostiamo nel punto in cui non si vedono i fuochi dall'1 al 5 e quindi spostiamo dal fuoco 6 al fuoco 10 fino a quel punto in modo che si vedono i nostri fuochi ecco ad esempio qua direi che va bene quindi ecco vedete che continua ad aggiornarsi vedete che si sposta in automatico ecco poi vedete che ci sono dei fuochi qua quindi possiamo rispostarli aggiornarli potete sempre effettuare aggiornamenti vedete che chiaramente i movimenti sono ritardati perché noi abbiamo spostato in avanti i nostri fuochi quindi controlliamo che ecco qua non sono aggiornati li spostiamo in qua ecco qua li spostiamo in qua qua si spostano indietro probabilmente perché c'è un fotogramma di mezzo poi arriva di nuovo ecco qua quindi vediamo ecco qua sono un po' ritardati vediamo dall'inizio voilà poi chiaramente qua è normale che si vedono li spostiamo anche se non è ancora un po' ecco questi qua sono il fuoco dal fuoco 1 al fuoco 5 spostiamo in qua ecco qua ci sono altri stavolta sono dal fuoco 6 al fuoco 10 comunque effettuate i vostri aggiornamenti ecco io direi che così va bene quindi vedete quindi vedete zack perfetto quindi vabbè adesso io provo a fare l'anteprima ma non credo di solito su youtube non si vede zack bellissimo poi potete aggiungere degli altri fuochi eh non nessuno chiaramente mi impedisce poi adesso lo stiamo vedendo al rallentatore poi potete spostarle ad esempio vedete in questo punto ce ne sono un po' troppo pochi quindi casomai ne sposto un po' dal fuoco 6 li sposto un po' in qua in modo da aggiornarli ecco poi effettuate voi i vostri aggiornamenti ecco qua poi chiaramente vedendolo più veloce poi esportandolo facendo file l'esporta potete aggiornare le situazioni comunque devo dire che è venuto molto bene comunque abbiamo creato il nostro effetto fuoco ora per dare più ordine selezioniamo tutti i fuochi andiamo su livello precomposizione e lo chiamiamo fuochi in questo modo siamo stati più ordinati quindi impostiamo la modalità su scolora ed ecco qua